È appena finito il Gran Premio di Monza per una gara della Formula 1 che regala spunti però dal punto di vista sbagliato e una serie di titoli del mondo assegnati per quanto riguarda le categorie propedeutiche, di conseguenza episodio del Racing Podcast molto corposo e partiamo però con l'analisi solita dalla categoria regina che appunto come dicevo in apertura dà degli spunti interessanti ma non per quello che è successo in pista quanto per quello che è successo nella stanza dei bottoni perché ancora una volta la direzione gara e la federazione internazionale in particolare la cobbiano grossa Prima non c'è di uno spettacolo probabile per un ultimo giro che avrebbe potuto far sognare comunque i tifosi della Ferrari e non solo. Partiamo però dall'inizio perché al 48esimo giro di 53 previsti Ricciardo si ferma alla curva di Lesmo 1 e causa appunto una safety car, safety car che inizialmente viene chiamata molto tardi al 49esimo giro quando era palese che la ventura di Ricciardo non poteva essere rimossa se non con l'intervento della safety car facendo realizzare tutte le vetture. I piloti rientrano ai box cambiando le gomme mettendo tutte le gomme morbide preparandosi evidentemente a uno sprint possibile all'ultimo giro per regalare comunque due giri di fuoco o il giro finale quantomeno di spettacolo per loro e per i tifosi per godersi comunque una grande lotta per accapararsi la vittoria e invece alla fine l'immagine più emblematica è quella che vediamo in questo momento ovvero la safety car che accompagna le macchine letteralmente all'arrivo. Questo è proprio il momento in cui la vettura di sicurezza taglia il traguardo nel 52esimo giro e inizia appunto l'ultimo previsto e infatti l'arrivo del gambevo di Monza sarà sotto safety car una cosa molto particolare mi verrebbe da dire che non dovrebbe essere degna di un circus come la Formula 1. È evidente che Abu Dhabi ha fatto giurisprudenza ma è evidente che la direzione gara ci ha capito veramente poco ma questo errore colossale perché di questo stiamo parlando di inizialmente chiamare la safety car in modo tardivo sull'incendio di Ricciardo e in più far finire la gara sotto safety car è figlio della decisione che fu presa ad Abu Dhabi nel 2021. Lo sappiamo perfettamente che lì venne violato il regolamento da parte di un errore tecnico di Michael Masi allora direttore di casa della federazione e tutte le polemiche del caso dove venne poi regalato quel finale al cardiopalma tra Hamilton e Verstappen. Qui appunto figlio di quell'errore grossolano se ne sono compiuti altri due il che è qualcosa di incredibile. Michael Masi è vero che non c'è più ci sono altri due direttori di corsa ma è evidente che appunto l'errore è grossolano perché appunto l'incidente di Ricciardo poteva risolversi tranquillamente in condizioni di sicurezza con una safety car sì chiamata ma evidentemente non fino al 53esimo giro anche perché di fatto parliamo di un congelamento della gara di sette giri praticamente privando appunto tifosi e piloti stessi di una lotta per la vittoria perché in quel momento Verstappen era primo dopo una strategia diversificata rispetto alla Ferrari visto che appunto la Red Bull ha fatto una sosta sola mentre Leclerc in questo caso due e non avremo mai la controprova a parete di gomme come sarebbe potuta finire la gara. Fatto sta che appunto l'arrivo è quello che vediamo all'interno di questa grafica ovvero Verstappen primo, Leclerc secondo e Russell terzo. Ripeto non avremo mai la controprova del fatto che Leclerc avesse potuto tentare l'attacco a Verstappen a parete di gomme perché Verstappen aveva un passo superiore quantomeno con il terreno di gomme medie e anche poi sulle manovre abbiamo visto come si è stata incentivata molto la rimonta dell'olandese e fatto sta che comunque nulla toglie alla vittoria del campione olandese che di fatto vince la quinta gara consecutiva e mette ancora una volta un chiodo sulla pietra tompale del mondiale per gli altri perché la classifica reso da 114 punti di vantaggio adesso su Charles Leclerc che comunque oggi ha fatto una gara molto interessante, ha fatto quello che poteva fare certo che appunto Leclerc non ci vede benissimo con la fortuna diciamo così perché ogni tanto gli boicotano la gara al monetto Ferrari una volta ci pensa anche la direzione gara, il campione non cambia, Verstappen vince anche una volta e per la 31esima volta in carriera suona Heldsvillelmus, l'inazionale dell'Olanda, 335 punti per il fenomeno olandese che vince l'undicesima gara sulle 15 previste, qualcosa di incredibile secondo Charles Leclerc che fa il secondo podio consecutivo e fa quello che può, ha detto che la Ferrari ripeto oggi ha fatto con il pilota a Monegasco due soste mentre Verstappen ne ha fatta una in condizioni normali e poi la safety car ha fatto appunto quello che voleva terzo è George Russell che appunto completa un podio che tutto sommato è nobile è lo stesso della gara di Olanda ma comunque appunto è nobile perché rappresentiamo i tre piloti del presente e del futuro prossimo come ho detto anche nello scorso Racing Podcast Manca Lando Norris che anche oggi ha fatto una prestazione abbastanza in colore ma appunto questo podio forse poteva essere invertito, forse poteva vedere altre vetture sul podio sicuramente sì perché è evidente che il più penalizzato è Carlos Sainz Carlos Sainz ha dimostrato di avere un passo clamoroso con le gomme medie sul circuito di Monza in generale è una Ferrari che su questo tracciato era assolutamente competitiva probabilmente avremmo potuto vedere due Ferrari sul podio senza una safety car particolare come questa e non il podio replicato dell'Olanda il fatto sta che in ogni caso va preso atto di questo errore colossale della federazione internazionale al mio modo di vedere la safety car che è stata l'incente di Daniel Ricciardo che andiamo giusto qui a inquadrare doveva essere appunto fatta uscire immediatamente nella posizione corretta perché ricordiamo che la safety car ha fatto un ulteriore errore ovvero piazzandoci davanti a Russell che non era il leader della gara ma doveva essere piazzata davanti a Verstappen e quindi Leclerc e Verstappen hanno dovuto fare anche un giro in più altro errore colossale e quindi in una serie di errori incredibili alla fine la safety car doveva rientrare probabilmente al 51esimo, 52esimo era ovvio che la pista fosse pulita da incidenti in quel momento quindi si poteva dare spettacolo per l'assinazione della vittoria è possibile che avesse vinto Verstappen lo stesso? probabilmente sì perché il passo era superiore nel complesso quindi la vittoria poteva anche essere meritata per l'olandese ma non avremmo mai la controprova del fatto che Leclerc abbia potuto tentare un attacco magari alla prima variante o alla variante Ascari per vedere evidentemente il riequilibrarsi un minimo dei valori in campo su questa pista non a livello mondiale evidentemente ma appunto Leclerc è quello che probabilmente è quello che è il rimpianto più grosso appunto perché Just Gia diversa era penalizzante rispetto a questa Red Bull che abbiamo già visto con Verstappen essere superiore anche a Monza a certo vedere Leclerc che avversavano la parità di condizioni dopo Safety Car avrebbe regalato qualcosa di incredibile purtroppo non c'è stato Abu Dhabi ha fatto giurisprudenza ma ha verso un errore colossale forse ancora più grosso rispetto agli Emirati Arabi anche se ripeto negli Emirati Arabi venne violato il regolamento fisicamente da parte di Michael Masi qui invece è un eccesso di sicurezza e di prudenza da parte dei direttori di corsa è un qualcosa però che secondo me non ha senso di esistere perché la Formula 1 di base è spettacolo e quindi una volta che c'è la possibilità di creare una situazione interessante con questa Safety Car nel finale di gara era giusto lasciare i piloti correre a mio modo di vedere senza evidentemente sbilanciarsi avere timori di nessun tipo il fatto sta che ripeto vince Verstappen e quello che ho detto nel rispetto scorso in quello prima in quello prima ancora in quello ancora prima va a ripetersi quindi di fatto Mondiale finito 114 punti di vantaggio per Verstappen rispetto ai primi mediati inseguitori che sono Leclerc e Perez ovviamente è una vittoria che ripeto tutto sommato può essere meritata perché Verstappen stava recuperando Leclerc prima che Leclerc si fermasse nel secondo stint ha fatto una buonissima rimonta nel primo stint con le gomme morbide superando appunto evidentemente anche i piloti che avevano una strategia diversa ma comunque il passo era impressionante anche con le gomme gialle insomma niente da dire per questo Mondiale di Verstappen che lo sta di fatto cannibalizzando parliamo delle altre posizioni abbiamo già accennato Carlos Sainz quarto buon quarto posto di Carlos Sainz che poteva sicuramente puntare al podio senza quella safety car sciagurata Sainz e le Ferrari erano competitive e secondo me due Ferrari a podio ci potevano stare tranquillamente quinto è Lewis Hamilton che per via delle mega penalizzazioni di metà schieramento perché parliamo di uno schieramento che dal trecisimo posto in giù erano tutti penalizzati per via di cambi al motore cambi al cambio power unit componenti di power unit insomma un casino incredibile fatto sta che Hamilton partiva in fondo e arriva quinto in qualche modo salvando una gara più che onesta sesto è Sergio Perez che comunque solleva la leggera soddisfazione di fare il giro veloce e quindi di sarsi solitario al terzo posto assoluto nella classifica mondiale settimo è Landon Norris che nella incognita della McLaren nell'anonimato più tale della McLaren fa settimo confermando il risultato dell'Olanda ottavo Pierre Gasly decimo Guanyu Jo che torna a punti dopo la gara dell'Azerbaijan ho bypassato il nono classificato perché è il mio rider del giorno driver del giorno meglio perché dobbiamo parlare e tanto di questo ragazzo Nick DeVries nono con la Williams a punti all'esordio assoluto in Formula 1 veramente tanti applausi per Nick DeVries pilota che lo seguo da anni seguendo le categorie propria elettrica l'ho visto vincere la Formula 2 nel 2019 non trovando spazio in Formula 1 è andato in Formula E con Mercedes dove ha vinto il titolo del mondo anche in quella categoria lo scorso anno quest'anno invece l'ha vinto il suo compagno di squadra ovvero Stoffel Van Dorn DeVries è già terzo pilota della Mercedes ha già fatto qualche comparsata nelle libere a Monza era già presente il logo perché doveva correre le libere con la Aston Martin si infortuna album diciamo in modo improvviso perché il tailandese ha un attacco di appendici d'acuta pronti via DeVries viene catapultato nelle libere due con appunto la scuderia inglese e fa non solo una grande prestazione in qualificazione perché ricordiamo che DeVries è arrivato in Q2 al debutto sbattendo fuori Latifi che è lì da anni e evidentemente conferma di essere il canadese un pilota pagante DeVries invece è un pilota talentuosissimo e qui si è visto perché con una delle macchine peggiori dell'otto fa non solo una Q2 meritatissima ma fa anche punti a Monza difendendo di fatto la sua posizione perché con tutte le penalizzazioni DeVries partiva ottavo sì vero ne perde una ma veramente tanta roba per Nick DeVries che appunto all'esordio fa punti e dunque ancora una volta un olandese competitivo ce l'abbiamo ed è il pilota appunto con il numero 45 della Williams questa posizione di DeVries secondo me è una petra tombale sulla carriera di Nicolas Latifi che ripeto è anni che è in Williams e ok qualche punto l'ha portata a casa ma in condizioni parecchio fortuna e vedi la gara farsa di Spa ma poi non ha mai dimostrato di avere un passo clamoroso il canadese anzi spesso è in fondo e appunto Latifi verrà ricordato oltre che per essere uno dei piloti probabilmente più scarsi degli ultimi anni anche colui che ha deciso il mondiale contro Hamilton lo scorso anno ma appunto non è un pilota che probabilmente ha oggi mai design in Formula 1 prenderle da un debuttante assoluto la dice lunga su quanto Latifi non sia evidentemente così sul pezzo a differenza dell'olandese volante Nick De Vries che appunto invece il passo ce l'ha e come e mi auguro che l'anno prossimo Williams possa dargli un posto peraltro si dicono voci in merito appunto all'olandese in Williams l'anno prossimo speriamo di sì perché questa prestazione è evidente che appunto consacrerebbe l'olandese meritevole di un posto in Formula 1 assolutamente il mio modo di vedere per un olandese che va appunto in una posizione ripeto c'è un altro però che vince domina i mondiali in questo caso è Max Verstappen sempre più vicino al secondo titolo del mondo consecutivo oramai è questione di aritmetica a sei gare dalla fine passiamo adesso però alle altre categorie perché abbiamo assegnato altri due titoli del mondo partendo però dalla Formula 2 e andiamo nella seconda parte del Racing Podcast parlando di Felipe Drugovic che anche qui domina il campionato della sua categoria in misura minore va detto rispetto a Max Verstappen ma comunque è un titolo ipermeritato per un pilota che non è opzionato da nessun team ma che al terzo anno di categoria è riuscito tranquillamente a fare il salto di qualità e regalare il primo titolo a un brasiliano evidentemente in questa categoria propedeutica che dovrebbe dare il lancio alla Formula 1 anche se spesso non è così Drugovic vince il titolo del mondo Formula 2 peraltro non facendo molto perché complici vari problemi e contatti in particolare con Amaury Cordel il pilota brasiliano deve abdicare fortuna vuole che il suo diretto rivale Theo Pursher non riesce a fare punti nella gara che contava ovvero la sprint race del sabato pomeriggio e dunque il brasiliano classe 2000 è campione del mondo della Formula 2 titolo ipermeritato per il brasiliano che conclude a 239 punti peraltro a un evento non al termine perché la Formula 2 concluderà nella passarela finale di Yas Marina a Abu Dhabi niente da fare per Pursher che completa uno zero assoluto a Monza e a Abdi definitivamente al titolo del mondo ci sarà però lotta per la terza e quarta posizione assoluta di questo mondiale piazzamenti per quanto riguarda i podi prima vittoria in Formula 2 quest'anno per Yuri Vips che non aveva mai vinto in questa stagione dunque suona l'inno nazionale Estone Ulmara Muziaret per il pilota che è stato scaricato da Red Bull a metà di questa stagione per via dei comportamenti fuori dalla pista del pilota Estone che però comunque ha tanto talento e si è visto in questa gara di Monza seconda posizione per Frederic Vesti pilota danese del team Art Grand Prix che con la debata del team MP Motorsport lo stesso di Drugovic è al momento leader nel campeonato team e i podi diversi sono assolutamente fondamentali in tal senso e terza posizione per Ayumu scusatemi terza posizione per Ihan Daruvala pilota indiano del team prima opzionato Red Bull Ihan Daruvala che per l'altro si ripete nella gara lunga della domenica mattina e di fatto torna a vincere in Formula 2 dopo l'anno scorso prima vittoria anche per lui e per lui sono il suono nazionale di un indiano Yana Managana seconda posizione ancora una volta per Vesti che ricordiamo è opzionato Mercedes e terza posizione invece per quanto riguarda la gara di Monza doveva essere per Ayumu Iwasa ma alla fine guardate lo scqualificato sale terzo posto Enzo Fittipaldi per segnare del team Chaiwoods Racing System per un titolo del mondo che si è segnato in Formula 2 ma con una gara ancora da fare c'è una categoria che invece si è conclusa ed è la Formula 3 che anche qui ha segnato il titolo del mondo vince Victor Martins pilota francese del team Hard Grand Prix un altro classico 2000 perché anche Martins ha 21 anni un pilota che è opzionato da Alpine e vince il campeonato di Formula 3 più equilibrato degli ultimi anni veramente qualcosa di incredibile piloti in lotta per il titolo del mondo erano addirittura in sei prima della gara di Monza alla fine il leader della competizione ovvero lo stesso Martins alla fine si salva in qualche modo il suo diretto rivale invece Ajar perde una meraviglia di posizioni alla fine abbiamo questa classifica che vediamo all'ultima gara della stagione Victor Martins primo Zayn Maloney secondo Oliver Berman terzo Isaac Ajar quarto per un mondiale che fino a questo momento vedeva i due francesi primo e secondo vittoria per il francese Martins che fa quello che deve fare nella gara sprint del sabato ovvero gestire i punti fondamentali anche un punticino solo era fondamentale per allungare su Ajar per limitare i danni considerate le qualificazioni e poi uno solido quarto posto in feature race regala il titolo del mondo al pilota francese ma per soli 5 punti sul barbatiano Zayn Maloney idolo delle folle la gara sprint tuttavia la vince un argentino Franco Colapinto che va a vincere la seconda volta sul podio per il quale suona il sogno nazionale dunque Colapinto si ripete dopo la vittoria di Imola due vittorie in Italia per il pilota argentino di chiare origini italiane peraltro seconda posizione per Oliver Berman che ricordo è un opzionato del team della Ferrari ed era un altro in lotta per il titolo del mondo e questi podi sono Valsi la terza posizione assoluta in mondiale terza posizione invece per Caglio Collè che era il vincitore della gara di Zanford nello scorso weekend Maloney invece si conferma il leader del feature race quantomeno nel finale di stagione dopo la pausa estiva un solo vincitore in queste sprint race era appunto il pilota dell'isola Barbados e dunque terza vittoria a conseguire in questo particolare format di gara e di conseguenza sono ancora persone nazionali in plenty of time of need secondo ancora una volta Oliver Berman che abbiamo già detto terzo invece Jack Crawford pilota statunitense del team appunto prima e qui team italiano opzionato della Red Bull veramente campionato Formula 3 equilibratissimo e col fatto che Drugovic non difenderà il titolo in Formula 2 e che Jack Doohan sembra intenzionato ad andare in Formula 1 l'anno prossimo con Alpine potrebbero esserci imposti per i primi due o tre forse quattro piloti in questa categoria che hanno dimostrato veramente di avere un passo superiore rispetto agli altri in questa categoria c'erano anche degli italiani che però non hanno purtroppo brillato ma come detto più volte sono italiani giovani che si dovranno fare il migliore di tutti è stato Francesco Pizzi unico nostro portacolori a punti in tutta la stagione ha fatto una prossima posizione in quel di Imola e per il resto poco altro gli italiani Federico Malvestiti e Enzo Trulli non hanno colizzato punti in questa stagione ma appunto Malvestiti in realtà correva in un'altra categoria ruote coperte è stato richiamato quest'anno in stazione di Nico Cari mentre Trulli è anche un classico 2005 come Francesco Pizzi quindi bisognerà aspettare il Formula 2 invece è rientrato in questa categoria Luca Ghiotto ma ha fatto una prestazione comunque discreta in stazione di Roy Nissari squalificato per questa gara Formula 3 che ha concluso Formula 2 che invece tornerà ad Abu Dhabi a fine anno praticamente Formula 1 che invece farà la trasferta asiatica dunque la doppietta Singapore-Giappone a partire appunto da metà settembre in avanti e vedremo cosa ci regalerà il Circus ilidato per evidentemente le varie tappe singole perché è evidente come il mondiale di Formula 1 oramai abbia poco da dire se non appunto per le vittorie singole di tappa il mondiale è praticamente concluso con la vittoria di Max Verstappen che si aspetta solo alla matematica in tal senso il saluto da parte di Matthew Torgaard ci vediamo al prossimo video Grazie